Domani. Come sarà il domani? Una cosa è certa. Il futuro dipende dai tuoi investimenti. Perché ogni euro investito influenza il futuro. Perché le tue scelte cambiano il mondo. Perché tu, come noi, non vuoi sacrificare il futuro per il presente. Vuoi investire per un futuro sostenibile. In Candrium riteniamo che il futuro non sia immutabile. Il futuro è ancora da scrivere. Il futuro rifletterà le tue idee e le tue responsabilità. Perché tu sei l'investitore di domani. Costruiamo insieme un futuro sostenibile. Candrium.